Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, io quando ero piccolo a scuola, all'elementari, alla scuola Nicotera, ad Arona, ero piccolo, all'elementari si faceva l'albero di Natale, il presepe in classe. In questa antica aula del Novecento, con il soffitto di 5-6 metri, finestroni e muri spessi un metro, un edificio, una scuola dei primi del Novecento, oggi non è più una scuola, fa parte dell'ASL, USL, come cavolo si chiama oggi. Però io quando ero piccolo ho avuto la fortuna di avere un'aula col crocifisso, l'albero di Natale, il presepe, di festeggiare la Pasqua, la maestra che diceva disegnate papà e mamma, e non c'era nessun problema, tutti disegnavano papà e mamma, disegnate la vostra famiglia. Non esisteva la degenerazione del politicamente corretto. pensare che a 49 anni che ho, c'è qualcuno, molti, che vogliono addirittura cambiare il nome al Natale, in festa d'inverno, le vacanze di Natale, non ti permettere, vacanze che cadono nel mese di dicembre. Cosa fai a Pasqua? Non dire più quella parola! Cosa fai durante le festività che si svolgono verso marzo-aprile? A che feste sono? Feste di quasi primavera, primavera, insomma, feste lì un po' dopo qualche mese che è cominciato l'anno. Ah, cioè, beh, io ai miei figli li sto crescendo con la festa del Natale, della Pasqua, faccio l'albero di Natale, faccio il presepe, li porto a messa, sono in una scuola religiosa, i miei figli vanno in una scuola privata religiosa, e dovrei vergognarmi, dovrei sentirmi una schifezza, io sto trasmettendo ai miei figli quello che era stato trasmesso a me, un'appartenenza, sarà sbagliato? Mostro! Eh, vabbè, sarò un mostro, pazienza, morirò mostro, fiero e contento di essere stato un mostro. Ma come tu, la famiglia tradizionale, lo spot della pesca, e Gian Bruno che va in Porsche, e quindi la famiglia che può essere di tutti i tipi, e comunque il Natale, festa d'inverno, sono fiero di essere un mostro. Eh, vabbè. Diciamo che ho avuto la possibilità di vivere in un certo mondo, non ho partecipato a guerre, ho fatto il militare ma non ho partecipato a guerre, quindi sono stato fortunato di essere vessuto in un arco temporale dove non ho dovuto imbracciare armi se non per il militare. sono stato fortunato, siamo stati, noi che siamo contemporanei, siamo stati fortunati. Mio nonno non lo è stato, i miei nonni, i miei bisnonni, tra prima e seconda guerra mondiale non lo sono stati, ma dai miei genitori, io e i miei figli, spero che anche i miei figli non debbano... e così oggi parliamo di Costanza Ermanin che dice che il Natale deve cambiarsi in festa d'inverno. Ma io dico, queste persone hanno avuto un'infanzia felice o che tipo di infanzia hanno avuto? Perché chi ha avuto un'infanzia come la mia normale, con il suo alberello di Natale, il suo presepe, i suoi regali da aprire il 24 sera o il 25 mattina, non gli passerebbe mai in testa di cancellare il Natale e cambiarlo in festa d'inverno? No, non credo proprio. Se tu hai questi pensieri, credo che qualcosa non ha funzionato. Eh no, qualcosa non ha funzionato. E diventa un caso politico della proposta dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, tutto italiano, di cambiare i riferimenti al Natale usando la festa d'inverno, per allargarne il significato in modo da non offendere le diverse religioni. Ma a proposito di religioni, secondo voi le altre religioni farebbero questo, per non offendere noi, che in maggior parte siamo della stessa religione? Secondo voi le altre religioni avrebbero rispetto per noi allo stesso modo? Credo proprio di no. Insomma, quello che si sta sentendo, per esempio, nelle ultime settimane, tutto basato sulla religione, la religione, la religione... La religione in Europa non frega a nessuno. Però il mondo non è solo Europa. Nel mondo la religione porta le guerre, divide i popoli. A noi non ce ne frega niente ormai, ma agli altri interessa. Quindi noi ci vogliamo cancellare addirittura al Natale per dire «E quindi non offendiamo nessuno!» Ma gli altri non la pensano così. Le altre religioni vogliono imporsi. Mentre noi vogliamo cancellarci e dire «Non possiamo offendere le diverse religioni», le altre religioni non pensano la stessa cosa e vogliono imporci. Ecco, quindi io credo che un giorno il mondo occidentale sarà vittima di se stesso. Ci faremo distruggere dagli altri un giorno. Perché ormai non abbiamo più... Non abbiamo più neanche le radici. Cosa siamo oggi? Cosa siamo? E così questa costanza Hermanin conferma o fatto parte del gruppo di lavoro per il piano di inclusività e diversità che ha redatto documenti disponibili al pubblico sul nostro sito che suggeriscono che le diverse osservanze religiose e culturali rappresentate dall'I, U, E saranno riconosciute nel calendario degli eventi e delle attività correlate. Verrà prestata attenzione a garantire che la celebrazione delle festività e degli eventi sia comunicata con un linguaggio inclusivo riconoscendo le diverse religioni e credenze. Nel caso della festa che ha scatenato tante polemiche manterremo i canti di Natale manterremo l'albero e il mercatino di Natale che si fanno sempre però non bisogna chiamarle così cioè vuoi fare l'albero? Vuoi fare l'albero? Vuoi fare il presepe? vuoi fare il mercatino di Natale ma non lo devi chiamare di Natale devi farti l'albero per la festa d'inverno devi farti il canto della festa d'inverno l'albero della festa d'inverno al posto che le statuine gli metti gli alberi con la neve ma vi sembra una roba normale non era così se tu non vuoi se tu non vuoi la festa di Natale la devi cancellare non gli devi cambiare il nome perché non ha senso grazie a tutti e arrivederci a presto